Si è tenuta questa mattina presso la sede di Via Scavata Case Rosse l'Assemblea dei Lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno II. L'incontro è stato convocato per discutere dell'avvertenza che vede 42 lavoratori ancora non ricollocati nei comuni dell'ambito. Siamo ancora in attesa di questo incontro che è slittato a domani alle ore 16 alla Regione Campania. La cosa che ci preoccupa è che non sono state invitate le sigle sindacali né i rappresentanti dei nostri lavoratori. Quindi sarà un incontro a porte chiuse. L'unica cosa che speriamo, ma che speriamo poco, è che sia un incontro risolutivo e che sia l'ultimo per scongiurare questa nostra fine. Siamo 54 persone, ma domani comunque ci saranno anche i consorsi SA3 e SA4. Comunque domani, come diceva il collega, penso che ci sarà una conclusione su questa storia. Cioè Bonavitacola dovrà dirci qualcosa alla fine, che fine dovremmo fare, che fine dovremmo morire, non lo so. Comunque c'è di fatto che il giorno 16, giusto? Noi non sappiamo se dobbiamo tornare qua scavato o ci arriveranno le lettere di disponibilità. Per me e per i miei colleghi penso che non è una cosa che noi affronteremo così facilmente, perché siamo nati qua e comunque con la Regione Campania. La Regione Campania domani dovrà trovare una soluzione al nostro problema, come l'ha trovato per altri personaggi. Non so se rendo l'idea.